Tutto pronto per la tredicesima edizione della Goneschileo, il contest organizzato dal liceo classico Eschilo di Gela che vedrà coinvolti decine di studenti di 15 istituti provenienti da ben otto regioni d'Italia. La tre giorni, dedicata alla lingua e alla cultura greca, prenderà il via il prossimo 20 marzo e si concluderà il 22 al teatro Eschilo con la premiazione dei vincitori. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest'anno si punterà sulla fusione tra il greco e la musica, due linguaggi che si sposano alla perfezione, come sottolinea il dirigente del liceo, Maurizio Tedesco. Quello della musica è un linguaggio che accomuna un po' tutti i giovani, e quindi abbiamo voluto utilizzare questa loro passione per la musica per poterli avvicinare ancora di più allo studio della lingua greca. Diciamo che il motivo, la ragione che ci ha spinti a rinnovare la GON è proprio questa. I concorrenti verranno ospitati dalle famiglie dei ragazzi del liceo, un modo in più per agevolare la condivisione e lo scambio alla base della GON. Sicuramente è un'esperienza abbastanza formativa perché comunque il confronto con ragazzi non soltanto siciliani ma anche delle altre regioni può darci un'opportunità di aprirci e per l'appunto, come dicevo poc'anzi, di confrontarci. Già mio fratello ai tempi ospitò e per me sarà il secondo anno, infatti sono molto emozionata ma specialmente felice, ringrazio il preside e i professori per averci dato questa occasione affinché nuove amicizie possano sempre crearsi come è già successo. Partner unico del concorso la Biorefineria di Gela che durante la tre giorni accompagnerà i ragazzi alla scoperta dell'impianto gelese. È importante star vicino a questi giovani in un momento di cambiamento epocale, è importante supportare questi giovani e poi favorire il fatto di avere ragazzi che vengono da altre regioni d'Italia, credo quest'anno saranno otto o nove regioni che parteciperanno e quindi dare la possibilità ad altri studenti di vedere le meraviglie archeologiche di Gela, visitare la Biorefineria di Gela, c'è un cambiamento epocale in cui noi vogliamo stare vicino alla città di Gela, ai ragazzi e agli studenti di Gela e delle altre regioni d'Italia. Madrina d'eccezione è la vulcanica Silvana Grasso, scrittrice di fama internazionale legata a doppio filo da sempre al liceo Eschilo e a Gela. La città adesso è palcoscenico di splendidi giovani che arrivano da ogni parte d'Italia e la città diventa essa stessa teatro. Non abbiamo mai trovato un teatro greco, ma oggi la città diventa teatro per studenti, fa partire ancora una volta il suo peana di vittoria, un canto di vittoria dove la vittoria è riuscire ad innescare e innestare sul nome di Eschilo e di quella grecità che ci ha benedetti, rapporti straordinari tra giovani in tutto il mondo e che domani diranno ma io sono stata a Gela, che bella città, città accogliente, generosa, materna, perché questa è Gela e una madre che non può dimenticare.